questa qua va bene attento con calma adesso perché quando alzi la pagaia ti sbilanci non è al centro la pagaia l'hai raddrizzata l'hai storta basta adesso ci fai sentire inutili ti abbiamo detto occhio che quando metti la pagaia in acqua via giù non funziona un attimo che non funziona adesso mi fanno buttare piedi e vanno via non ci fai sentire inutili non ci fai sentire inutili non ci fai sentire inutili